Ciao amicissimo Daniele del Dirrappa, ti aspetto martedì 31 maggio presso la concessionaria Lorenzi Auto a Gheni per partecipare a questa corsa non competitiva amici codisti, più saremo, più grande sarà la donazione alla società ha, io tre giorni prima parteciperò al centro pilota del passatore Firenze e Faenza, non mancate, vi raccomando perché pure io ci sarò Grazie a tutti